Oh, questi li trovo, eh, per carità. Il cacchio di corvo... Cioè, erano delle tette? Ah, no. Boh. Sì, sì, venite, venite. Non è un problema, voi. Anche se vi muovite un po' troppo. Per i miei gusti. Ai me. E sparano, e basta. Devo capire bene anche quanto... Quanto si diverte lui a uscire... Oh, là. Eh? Cioè, quanto si diverte il piccione. Voglio capire anche quello. Perché sembra che appaia e non faccio un cacchio. Aia. Questa non mi... Non mi ispira troppo. Il serp... Il tipo il serpente dentro il coso? Sì. Brutto. Dentro il treno. Quella... Quel robot che c'è dentro mi diverte un sacco. Ma perché lo vedo anche lui che si diverte. Quello peccato. Che adesso... Penso che ci sia un tempo minimo comunque per... Cioè, trattandosi del tempo, suppongo che... Sotto... Tipo adesso ho fatto un minuto e nove. Sotto il minuto e platino. Per dire. Poi danni... Suppongo sia... Combo? Non lo so. Vorrei capire anche lì in base a cosa va. Però tipo danni... Se prendi un colpo... Già da platino scala oro. Poi tipo sarà... Tre o quattro colpi... Da oro scali ad argento. Sette o otto colpi, eccetera. Cioè, man mano che pigli i colpi... Va sempre più giù. Magari era dentro una tomba il corvo. Ma anche se non credo... Cosa succede? Poi è io. Aiuto. Ma in che senso? Fuggi delle nuvole senza toccarle. Ma ho fatto un sabbat. Ho fatto un sabbat contro cosa? No, il piatto è il terreno. Ma ho fatto un sabbat contro la nuvola? No. Forse... Forse contro la... Quell'ascia gigante. È più probabile. L'ho rischiato, eh. Aspetta. Un lecca-lecca da un ragno? Non è che... Me ne faccio molto, eh. Forse dei biscotti. Oh, guarda quanti soldi. Cioè, sto facendo là le cose... Ma ancora lui? È tornato? Ma è d'oro? Per caso? Guarda che figo. C'è il pizzetto, poi. Eh, calmo. C'è il cacchi di pizzetto. Vai. Rainy Man. Occhio. No, no, ma io non voglio evocarlo così a caso. Dobbiamo evocarlo per il... Il colpo. È stato preso. È romenata. Eh, dai, baio. Per questo i colpi con i... Con i... Con i piedi non mi piacciono. Ci metto un botto. Ma tutti quei danni così... Cioè, tutti quei danni non fatti. Hai colpito o no? Mi sta massacrando. Fai un po' te. Non capisco perché sto mancando così tante finish. C'è qualcosa che non mi torna. Vai. Forse per il tempo. Non sai che premevo troppo presto. Però è strano, eh. Cioè, la roba del... Della finish... Beh, forse dipende anche dal nemico. Ci sono certi nemici che... Non te la fan fare la finish. Con il... Con il demone. Ma qua, ma io... Io praticamente cammino qua e prendo soldi. Aureole. Guarda lì. Chiama Enzo, chiamalo, chiamalo. Scherzi? Si divertirebbe. Ma a caso? Se tutto questo esforzo non fa per un successo, ho avuto alcune parole per quella chica. Ma anche se non si tratta di guardare Luca. Per qualche motivo, quella kittà sta scocando in mio mente. Hmm, cosa mi è venuto? No, no, no. Oh, oh, mi sa che... Eh, immaginavo. E adesso ci sarà tipo... Eh, prova a non volare senza toccare il quadro. Placaggio. Piuma missile. Quello mi sono schiantato in pieno. Aspetta, aspetta, calma. Calma, 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 calma. 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 Prima gli ho fatto un placcaggio... L'ha demolito. Ma mi sa che si è demolito il piccione. Quelli? Oh, oh, sulle ali. Mi rovinate il piccione, dai. È un po' tipo quando c'eravamo... Con... Cosa, no? Forse dovevo ammazzare tutti. Ma poi che musica è? Ma veramente Indiana Jones, questo? Eh... No, ma mi sa che col... Col placcaggio non funziona. Devo fare qualcos'altro per schiware quei rovi. Ma che cacchio è? I culi in primo piano. What the f... Dove sono finito? Salta a cuceti. Ah, ok. Ma è uno skateboard. Ok, no, no, fermi, fermi. Ci sono. Ci sono, ci sono. Cioè, non mi ha andato neanche il tempo... Dele... Deleggere un attimino il tutorial. No, te lo mettono lì. Per carità, eh. Ci sta. Il problema è che... Ti mettono subito a guardare la roba. Almeno dagli un attimino, no? Lì dai uno spiazzo tutto vuoto. Senza dovervi far nulla. E intanto ti guardi le info. No, è perché se no, sai. L'ho preso in pieno. ZR, schiva, no? Ma non... Cioè, discorso che non riesco neanche a vedere cos'è. Mi sembra uno scorpione, ma è tipo un leone. L'ha fatto lui, ha fatto, eh. Vabbè, figurati se i danni ne li prendevo. Una volta ogni tanto. Oh. Porco cane. Porco cane. Eh, è andato. C'è un gatto lì dietro? C'è un gatto lì dietro? C'è un gatto lì dietro. C'è un gatto lì dietro. Con un testio. Quindi lei combatte il suo per conto suo. E noi combattiamo il nostro per conto nostro. Probabilmente lei morirà. Chi c'ho? Ha rimesso fantasma rana. Lei combatterà il suo per cacchi suoi. E noi combatteremo il nostro. E poi quando lei morirà. E il nemico nostro è morto. Si potenzierà e diventerà il giga. Giga cosa suppongo. Vai guardalo lì. Gomu go go. Cacchi sia. Eh no. Dai buono. Non ti ho dato il vero senso di toccare. Aspetta ma direi sta combattendo? Devo aiutarla io vero? Spero. Buono. Bravo. Non devi partire così. Partito? Aspetta ma abbiamo una... Quante cacchi di tacche c'ha? Porca vacca. Cinque tacche? Ah no però aspetta anche quell'altro ne aveva cinque. La mia madama butterfly. Ahia. Sbagliato. Mi ricordo era il gorilla. Il gorilla aveva cinque tacche. Con l'unica cosa che cambiava che... No non cambiava un cacchi. Aveva cinque tacche ma poi partiva l'attacco o quell'altro. Posso andare di là? No non posso andare di là. Si dà nel cambio? Cioè questo è quello di prima che abbiamo affrontato. Mi sa di no. No no no. Allora uno è ventuoso e uno è elettrico praticamente. E questo ci entrerebbe poi sì con il fatto delle nubi. Cioè il fatto che ci entrano con le nuvole è che appunto uno è ventuoso e uno è elettrico. Vai madama. Va bene stavo guardando come sa cambiare. No però c'hanno ancora un attacco. Vedi che c'è da nel cambio è tornato l'elettrico. Fa ridere che c'era tipo un'altra testa ed era il treno. Se non te ne accorgi prendi paura. E' buono. Vai ragnetto. Boom. Mi manca un cacchio dai che è morto. Non toccare il nuvole delle estinzioni durante la battaglia se li bilance. E come facevo? Che non potevo scendere. E appunto cioè forse pesava pesando di più. Però in base a cosa va il peso lì? Non c'è... E... Adesso fai l'evocazione qua sulle bilance Si combatte qua Il baionetta Sereza 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 Arci! A Non soph Jos Sareza Grazie per la visione! Ma quel cuore quante volte esce da quel corpo? Eh, cosa fai? Ragnozzo? Spettro! Spettro! Quei la... Cambia demoni. Ah, ok Quindi un doppio scontro Però, scusa un attimo Raggi infocato Missile a grappolo Guarda, là sotto E là Mi sta colpendo? Onda tenaglia? Non so se mi serve qualcosa Guardano lui la faccia là sopra Credo dobbiamo picchiare il centro qua Vai Cioè, questo qua sembra un nemico di Godzilla comunque, non vorrei dire Ai, ai, ai Adesso arriva, no? No, mi sa di no È una barriera? Non lo so, devi dirmelo te Aspetta Vai! Mi sa che va più veloce a piedi, guarda lì Guarda com'è plana Vai, vai Onda tenaglia Non so, cristallo di calore Eh, pensaci tu Dominatore dei 20 Dominatore dei 20 Dominatore Dominatore dei 20 sta dormendo Mi sta in questo momento Puoi richiamare più tardi? Oddio Vai, 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 vai Missile aggrappolo Missile aggrappolo Orca vacca Ecco, mi sono tornato giù C'è di nuovo la barriera? No Vai, vai, vai Missile aggrappolo Ma è bello Comunque What if Mega Evolution Fossero buone Boia Attenzione Aspetta Le ha schivate tutte Potentissimo Non so Ma se li ho tolto Meno 10 Boh, ho visto un meno 10 Eh, ma Cosa devo fare con lui? Colpo d'artiglio Non so Cioè, è lento Vai, vai, vai Più missile Cioè, quando dici sono al limite È perché È perché manca poco tempo Sai che adesso cade? Aspetta Cioè, io che li stavo attaccando la testina qua che scendeva Invece dove andare in mezzo Ma pensate Quanti pochi danni gli ho fatto allora Eh, ma mi sa che qua Spettro si è arrabbiato Cosa sta facendo? Si detona Oh, hoia Addirittura Eh, ma il tempo ho fatto cagare, sì Danni, peccato, eh Combo Che cacchio fai di combo? Sei con dei robot giganti Fanno un attacco ogni tre quarti d'ora No, aspetta Non mi dire che si sacrifica No, aspetta L'unica che potevano salvare Ho capito Ho vinto Cosa sarebbe? Tipo un ventaglio? Ed eccoci ritornati E in tutto questo ho mancato il corvo Mannaya Ecco, Baal Con Vabbè, l'arma Che non capisco cos'è Ah, il microfono Il microfono di Jeanne Malfas con Il ventaglio Sì Però io non continuo a non capire Perché ti danno così tante armi Insieme Cioè Ma damene una Mi dai un'arma E poi mi dai Un livello da fare Almeno la provo Quell'arma Il livello dopo Mi dai un'altra arma E mi dai le altre Cioè Dividile Non darmene due in un capitolo Scusa, eh Vabbè, le specchie Quelli lì sono Praticamente i vestiti Degli altre Baionette Ecco, figurati se non c'era Senza ortare gli ostacoli Vabbè Eeeh Mi manca il Il fucking corvo Lo brucio Lo sento Lo sento Dov'è? Lo sentito, raga Buoni perché L'ho sentito Sei di là? Allora Cioè Eeeh Non ho capito Eccolo lì Guardalo, guardalo Aspetta, aspetta, aspetta Aspetta, aspetta Aspetta, aspetta Aspetta Che giro fai? È ferito Ma forse posso Pigliarli in mezzo Alla strada Altrimenti Di là Ma Non è che se non li seguo Spariscono Possibile? Dove cacchio vai là? Come lo prendo più che altro? Uuuuuh C'è il vento Come lo piglio? Calcolando che lì non posso passare? Oh Boia Al volo andava preso Che palle Non Cosa Cioè Sto vento che gira Io continuavo a cadere giù di sotto E volavo giù Nell'immortacci suo Che fatica Vai vestigia Allora Non l'ho provato Perché volevo in realtà anche provare a vedere se funzionava Se recupero Il coso Il corvo Per dire Posso schippare e tornare al menu principale? Cioè posso lasciare il livello Il capitolo E tornare al menu e me viene contato? Perché Cioè rifarsi tutto il coso Solo per Ah eccolo qua Rifarsi tutto il coso solo per lui Eh Insomma Va bene Eric Ah è morto così Ok Va bene Tu per prendere un Cosino eh Non è anche dire Voi hai fatto qualcosa di importante No no E che ci vuole il tempismo Un attimino Piano Piano Ok C'è qualcosa anche di là per caso? Lo scopriremo Sembrerebbe di no Cosa stai facendo? Stava scivolando il tasto Volevo un attimo cambiare Eh Sapete no? Quando metti Cambi l'impugnatura un attimo No no scusi Scusa anche se Solo ci ho provato Più che altro il discorso è perché c'è Per pezzo Adesso ci sarà sicuramente Un sortilegio Che mi dirà Oh ciao C'era un sortilegio che mi dice Non devi usare la La cosa Oh Breakdancer Dai calma Ecco che difficile Perché poi dovrei usare Viola Che è ancora più complicata Da usare come Come combo Cioè se c'è una cosa combo Da far veloce e tutto Viola sicuramente non la fa No comunque se Se potevo schifare tutto il livello Io accetterei volentieri Perché Farselo Farsi 45 minuti Più o meno 45 minuti di roba Non è il massimo E' preso o no? Solo per prendere un corvo poi eh Che magari poi dici anche Che è alla fine E' l'ultimo E allora sai dove Magari hai già preso un altro No no E' in mezzo Quindi io non sapevo nemmeno Dove dovevo andare a prenderlo Vedi che non riesco a fare Caccia lì la combo What the fuck Ma è caduto il ro- E' caduto Sta cadendo Quello Allora o devo O devo far veloce Ma non credo così tanto veloce Oppure devo cambiare Anche proprio Devo cambiare bilancia Devo andare dall'altra parte Della bilancia mi sa Che è possibile La vedete che si Si sta abbassando là Però per me si può fare Anche più velocemente Vai Io meno Anzi Aspetta 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 Ho capito perché ci sono Oh Ho capito perché ci sono Queste piattaforme Per arrivare di qua Ok Cioè una serve Che ti dà anche il robo E le altre Le altre solo per andare di qua Cacchio i giri maledetti Ehi buona Ehm Gomu Vieni anche te Che ti diverti A me piacerebbe fare anche Delle combo con Le pistole Però non ne trovo Vabbè comunque Una volta che è cambiata Che è cambiata C'è bisogno Di ritornare Di là dopo Cioè c'è lei la combo con le pistole Volendo Che sarebbe Tenendo premuto Se tieni premuto Il tasto Te la fa Dobbiamo ammazzarlo prima Però grazie Prima che utilizzi La soppiaggia tossica E quando la usa E quando la usa scusa Che qua da mezz'ora sono Boh Cioè se fosse tipo Sconfiggilo Senza cambiare Piattaforma Magari c'è anche Allora quello lì sarebbe già un po' più complicato Cioè se fai quella lì però Fai il platino Se riesce ad ammazzarlo Prima di cambiare Piattaforma E' platino Cosa mi ha dato Un teschio Kart E' uno strumento Questi sono I più facili Comunque da fare Platino puro E' uno solo Termina il capitolo Usando la passione Amfibia Che sarebbe Un'arma Con Jeanne Che però Non l'abbiamo ancora Abbiamo viola Ma non Jeanne Ritorniamo con Jeanne Alto rischio Capito l'extra 3 comunque Qua cioè In un modo o nell'altro Stiamo andando avanti Non so quanti ce ne sono Più che altro Non sto Non ho ancora compreso Quanto Può diventare lunga la storia Cioè Per essere potrebbe Potrebbero darci Non dico baionette infinite Però Calcolando i paesi che ci sono Non credo che comunque Ce ne siano troppe Perché Sennò sarebbe stato Tipo un gioco infinito Però appunto Per ora Non sto vedendo progressi Nella trama Non ci stiamo avvicinando Al boss Quindi non saprei neanche dire Quanti Quanti capitoli ci sono Jeanne Sta girando Jeanne gira Posso schippare Grazie Che da un po' che Non sembra la stessa roba Pensai che ha detto Ancora viva Ok C'è C'è Silenzio C'è molto silenzio Ho rimesso la musica Sì Ok Cosa ti voto lì Che mi hai dato Quegli oggetti Grazie Armi Aspetta Aspetta Va bene Dai Jeanne Annaya Eh che cacchio Ci vuole molto Aspetta Vai Uccisione furtiva Abbiamo comunque L'uccisione furtiva Dai buono Che sleppo Questo è il nemico Vero sì Tegala sopra Dai buoni Non sto capendo Mi fate picchiare Sta gente Cacchini i cuori Date buoni Levatevi Eh che cacchio C'è una crescidra Ah Ma perché mi cadono gli oggetti Che oggetti sono Un arco Vai giù Non va giù Come il classico Allora Può cadermi Il nemico Come può cadermi Lo strumento Mi pare di aver capito Quello Ma Ma Troppato Il robo Oh cacchio Non l'ho visto Ok Quella lui Ma c'è un'arma In teoria Si In teoria Ci muoio Ok Elevati Era Aideus No Affinity Elevati C'ho Non c'ho vita Can I have some vita Please Poi li dettono Tutti così Patatine Me le stanno dando I nemici Le cose Però Elevati Oh oh Mi sa che ho perso anche un pezzo Però Vai 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 Aspetta Non so perché C'è Si so perché C'ho una vita Perché sono stupido Però Non so come fare C'è lì mi sa che ho perso Già un pezzo Posso chiamare? Ma che c'è che sta succedendo In sto livello Please evita Ho richiamato Allora Mi sono nel momento sbagliato Cos'è un fucile a pompa? Mi piace Vieni fuori Dai Quando mi hai caricato la vita Ahia cacchia Quando mi hai caricato? Ah forse con quelle Con le aureole No sto Comunque sto facendo cagare Tantissimo In questo Sto giro Mi sa che faccio schifo Non so neanche dove c'è il nemico Ma è sempre quello D'altra volta o sbaglio? E' lui no? Ok 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 la mano Non l'ho presa Ma lui ha una vita? Ha una vita visibile Non l'ho vista? Ciao Ho preso solo due Bonus item Arriva alla fine Senza crescenza E si blocchi del tutto E' ben finito? Se è finito Ho tratto poco Doctore Sigurd Un piacere di finalmente incontrare Hai finito Ho fatto Veramente Tanto schifo Bonus oggetti Solo quelli Bene Su un game over Grazie al cacchio Ma come ho fatto A prendere il platino Va bene Mi ha durato un cacchio Mi ha durato Scusa Posso capire i bonus Ottieni una teiera Dal sistema di rifornimento Che sarebbero quelle cose lì Sconfiggi almeno due nemici Con un solo colpo di fucile A canne e mozze Difficile Ma non infattibile Uccidi furtivamente un nemico E lancialo addosso un altro Anche questo Potevo farlo Ma non Non ci stavo capendo un cacchio Quindi vabbè Trovo e sconfiggi affinity Cosa vuol dire? E' apparso da una scatola Questa ve Bundesligo Cosa vuol dire? Ca Ca